Il clima apparentemente un po' migliorato dopo le dichiarazioni distensive e foriere di pace del presidente Pulvirenti nei confronti dell'amministratore delegato Lomonaco, il Catania è in campo a Cipro contro l'Omonia-Nicosia per la prima amichevole precampionato. Montella avrà modo di dare il via agli esperimenti e di provare schemi e moduli. L'orientamento è quello di puntare sul 4-3-3, il che non esclude l'utilizzazione di un trequartista come Barrientos. Intanto il presidente e il direttore generale potrebbero incontrarsi se non subito tra qualche giorno per provare a ritrovare l'armonia perduta. Le parole di Pulvirenti ci sono in margine per una riappacificazione. Dovrebbero aver spento il principio di incendio. Vedremo nei prossimi giorni. Ad appena 24 ore dalla conferenza stampa shock in cui Pietro Lomonaco ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato del Catania, la situazione potrebbe clamorosamente rientrare. Lomonaco ha lasciato uno spiraglio, ammettendo che la sua conferenza in realtà nascondeva una sorta di provocazione nei confronti del presidente Pulvirenti. La sensazione, che poi è anche un auspicio, è che da entrambe le parti ci sia il desiderio o comunque l'intenzione di provare a ricucire i rapporti. Dieci anni di lavoro e di intesa professionale non possono e non si devono distruggere in pochi minuti, a causa forse di un fraintendimento, di un'intenzione interpretata male che ha poi scaturito pensieri e parole in realtà non voluti. Esattamente come quando una coppia di sposi litiga, anche per una banalità, si pronunciano parole su parole, a volte pesanti e dure, che però sono segnali di un affetto profondo. Il progetto Catania e il progetto Pulvirenti Lomonaco deve andare avanti. Per tutti gli appassionati, i sostenitori e soprattutto per la città, che di realtà positive come il calcio Catania ne ha davvero bisogno. Lomonaco, come detto, ha lasciato la porta socchiusa dicendo il presidente sa cosa deve fare. Niente di più vero. Nino Pulvirenti, nonostante l'arrabbiatura, nonostante le parole dure, sa perfettamente quanto l'esperienza e la competenza di Pietro Lomonaco siano importanti per proseguire nella strada intrapresa in questi sette anni. Una strada che ha riportato il Catania in Serie A dopo più di vent'anni, che ha regalato cinque stagioni di massima serie e un centro sportivo all'avanguardia, tre migliori in Europa. Quell'Europa che il Catania potrà raggiungere solo se ritornerà all'armonia e alla sintonia tra gli artefici di un progetto che deve continuare ancora a lungo. Nel frattempo il Catania è impegnato a Cipro contro Monia Nicosia nella prima amichevole stagionale. La partita in questo momento è nei minuti finali. 1-1 il risultato rosso-azzurro in vantaggio grazie al gol realizzato da Pablo Ledesma. Al quinto minuto del secondo tempo pareggio su rigore con il portoghese Aguiar. Nella Tg della notte ovviamente le immagini e i gol, i dettagli del servizio grazie ai colleghi in redazione e intanto proseguono senza sosta anche le trattative di mercato. Come leggiamo nella nota il Catania infatti sarebbe molto vicino all'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Davide Lanzafame di proprietà del Palermo. Il giocatore che è nato a Catania sarebbe felicissimo di trasferirsi in rosso-azzurro e sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio. Grazie a tutti.